comune in Genova benvenuti e benvenuti siamo in linea con il caffè con GMG vedete già il mio fianco all'ospite di quest'oggi Andrea Piccardo in questa veste in questo caso di presidente Genova Comics Academy poi ovviamente Andrea un genio sloci quindi avrà cambiato diversi cappelli durante la televisione a seconda di quello di cui parleremo ma parleremo soprattutto di eh eh di una manifestazione molto importante che eh ai prossimi svolgimenti ovvero il risorgimento a fumetti nel che sarà lessita nel museo risorgimentale di Genova eh in via Lomellini una iniziativa di cui lui poi ci parlerà diffusamente vi ricordo che questa televisione la potete trovare su radio in diretta poi la potrete trovare sul nostro canale WhatsApp anche eh sotto sottoforma di podcast allora eh salutiamo Andrea per la seconda volta e eh ti chiedo Andrea eh il tanto il museo del risorgimento a Genova è una delle cose più belle che abbiamo come eh struttura museale non 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 del tutto considerata non so perché perché comunque è una delle cose più belle che abbiamo visto entrando e sicuramente forse questo che è l'iniziativa che state per lavorare per per presentare è un'iniziativa che lo va a valorizzare e l'altra cosa i fumetti e il risorgimento procediamo per i gradi intanto intanto buongiorno a tutti grazie Giovanni per l'accoglienza grazie a tutti i giorni in Genova ehm sì il il museo del risorgimento di via Lomellini è un museo che è all'imboccatura del del centro storico venendo da principe però è uno dei musei meno visitati della città però è anche uno dei musei più affascinanti della città eh intanto perché mantiene dei caratteri ancora antichi di allestimento eh e poi è uno dei più importanti d'Italia eh per per via dei pezzi che ha è ricchissimo ha un sacco di di materiale eh che diciamo eh può pareggiare i conti anche con il museo del risorgimento di Torino per esempio che è un altro museo molto importante del risorgimento dove abbiamo appena visto eh Hero Garibaldi che è stata una mostra bellissima eh incentrata appunto su l'eroe dei due mondi eh ma visto dal punto di vista pop eh l'idea di di fare questa iniziativa è stata di Elena Putti che è la direttrice del museo attualmente eh che mi ha coinvolto come Genoa Comics Academy. La Genoa Comics Academy è una scuola che dirigo da dodici anni che abbiamo fondato a Genova eh eh sull'onda del fatto che alcuni di noi professionisti del settore del fumetto eh avevano voglia di passare la la staffetta a qualcun altro eh e e l'idea era quella proprio di passare un testimone eh ed è quello che facciamo da dodici anni proprio e insegniamo e poi facciamo attività culturali per esempio quest'anno abbiamo fatto un'iniziativa bellissima con itinerari paralleli all'interno proprio del proprio qua nel nel quartiere del Molo eh legata ai rolli eh per parlare di fumetti ma un po' fuori contesto perché poi noi li facciamo i fumetti no? E siamo chiusi in casa eh o davanti al computer o davanti al tavolo da disegno sempre un po' tendenzialmente da soli. Quando i fumetti escono l'editore li pubblica e ogni tanto si va a presentarli però è un è un lavoro abbastanza solitario eh per conoscere per per conoscere gli altri la nostra scuola organizza iniziative che portino fuori i nostri allievi i nostri professionisti e futuri professionisti all'esterno a conoscere il mondo che 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 c'è fuori. La mostra si si impernia proprio su questo meccanismo cioè eh eh conoscere come si costruisce un fumetto storico ma non solo storico attenzione perché poi dentro poi ne parliamo. Infatti la domanda conoscendo un po' il risorgimento avendo lavorato anche nell'ambito del risorgimento del risorgimento del risorgimento conoscendo abbastanza bene la domanda che mi veniva è e come diciamo il fumetto entra in una storia complessissima come quella del risorgimento italiano che diciamola tutta qui a Genova ha vissuto un bel settanta per cento di esperienza ha vissuta a a a Mazzini, Caribaldi ma anche lo stesso lo stesso Cavour ha avuto delle storie molto legate a Genova per cui qui a Genova c'è un bel substrato di storie e di narrazioni da da raccontare rispetto a quel periodo un periodo che è stato letto poi in tantissimi modi. Guarda è è divertente questa cosa nel senso che eh di fumetti sul risorgimento eh ne sono stati scritti diversi non tantissimi non tantissimi c'è c'è ci sono più romanzi più racconti storici eh la letteratura di varia è più attenta all'argomento e naturalmente la saggistica e gli storici ne hanno parlato abbondantemente. Il fumetto ha fatto alcune poche piccole eh eh deviazioni sull'argomento eh trattandolo a volte in maniera molto molto seria a volte trattandolo in maniera un po' divertente comica eh è il è il connubio tra le due tra i due modi di trattarlo che ci interessava eh perché doveva essere eh accogliente naturalmente questa mostra doveva fare in modo che la gente venisse a vederla ehm e la cosa divertente è stata che eh quando Elena mi ha proposto questa cosa eh me l'ha proposta parlandomi di un fumetto che io conoscevo già naturalmente perché eh è di un editore di Amici di Novara della M3 e mi ha detto eh guarda questo fumetto che si intitola Garibaldi versus zombie che è un fumetto assurdo nel senso che è Garibaldi l'eroe dei due mondi che combatte insieme a Nino Bixi eccetera eh con degli zombie eh è un fumetto divertentissimo che però diciamo di storico ha la ricerca che è stata fatta sulle reference sui personaggi eccetera ma a poco cioè è Garibaldi che poi invitiamo tutti a leggerlo naturalmente ma è che combatte contro degli zombie ehm e però la cosa interessante è che abbiamo trovato il modo di incastrare le tavole che 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 dei fumetti che abbiamo portato con i cimeli che sono esposti all'interno del museo per cui per esempio eh abbiamo una tavola con eh Garibaldi che guarda con un cannocchiale su una nave c'è il cannocchiale originale di Garibaldi eh abbiamo Garibaldi che eh combatte con eh dei 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 guerrieri dei soldati eh con la sua mantiglia eh tradizionale abbiamo il dipinto con Garibaldi con la sua mantiglia tradizionale e il cappello originale di Garibaldi che ha in quel in quella tavola eh disegnata dagli esposito brosso e scritta da Alfredo Castelli per una storia di diciamo del di una derivazione di Martin Mister eh di uno spin off di Martin Mister quindi è stato divertente comporla questa mostra e quindi è sarà sicuramente divertente venirla a vedere però la cosa divertente anche è andarsela a cercare questa roba qua abbiamo fatto un lavoro di ricerca incredibile e qualche cosa ci è rimasto fuori tra l'altro perché eh alcuni permessi perché ovviamente tu le case editrici le coinvolgi e poi devi chiedere dei permessi di pubblicazione delle del del prodotto che vai a disporre alcuni permessi sono arrivati in tempo altri purtroppo no. Ecco ma ritare graficamente quando si potrà vedere quando si potrà andare a visitare questa mostra? Beh noi oggi inauguriamo e la mostra dura fino a giugno quindi diciamo negli orari del museo c'è parecchio tempo eh io consiglio eh di tenersi aggiornati eh sia sulle pagine di Genoa Comics Academy sia sulle pagine del museo perché organizzeremo proprio degli incontri con gli autori delle tavole che abbiamo esposto uno una su tutti oggi abbiamo ospite Andrea Freccero che è uno dei grandi disegnatori della Disney forse in questo momento il più quotato eh disegnatore della Disney eh eh diciamo della schiera dei giovani e dei giovani genovesi tra l'altro con cui faremo un happening di disegno collettivo proprio per anche parlare di unità d'Italia no? Cioè facciamo un disegno tutti insieme dove lui ci dà il là come se fosse il nostro Garibaldi e poi noi andiamo avanti con il nostro anche con i nostri allievi che sono già dei quasi professionisti. Ecco mi sembra una bella chiave di lettura intendo anche parlare eh poi parleremo anche dalla tua attività nel centro storico e comunque anche questa è un'attività di eh rivitalizzazione del centro storico che mette insieme diciamo un pezzo di storia antica ma anche un pezzo di proposta di storia un po' compassato un po' diciamo così formale dentro una modalità che può attirare anche altre persone quindi rendere diciamo quell'area soprattutto quell'area lì rivissuta e rivista in un'altra maniera. Sì guarda io eh esco un attimo fuori dalla dalla tua domanda nel senso che secondo me Genova è una città vitale eh è già una è una città qualificata che ha tantissime qualità ha tantissime qualità sul saper fare eh abbiamo tante persone che sanno fare eh bisogna semplicemente guardarle provare a buttare fuori il naso e guardarle Genova risponde generalmente quando eh ci sono delle cose interessanti realmente interessanti e fatte bene eh non dico che noi facciamo le cose bene perché a volte qualche cosa la sbagliamo anche eh però il centro storico eh in alcune parti è un po' dimenticato dai genovesi come in questo caso il museo del risorgimento ha un pochino la necessità di essere visto dai dei genovesi riscoperto come dicevi eh dai genovesi ma non soltanto dai genovesi perché come dico noi inviteremo ospiti da tutta Italia eh Milano Torino eh Roma eh eh Novara appunto eh perché in questo in questa occasione noi ci connettiamo non al resto della città ma al resto d'Italia veramente eh abbiamo tavole di tuono pettinato che è di che era di Pisa lo ricordo era un amico e e che è mancato pochi anni fa verrà addirittura proprio sua mamma a a presentare il suo fumetto che si intitola Garibaldi pubblicato dalla Rizzoli Lizard eh che è un fumetto divertentissimo bellissimo molto storico tra il serio e il faceto e abbiamo combinato in questa situazione che verrete a vedere un 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 allestimento per le sue tavole che è super divertente eh abbiamo fatto anche abbiamo utilizzato il divertimento per parlare di cose serie questo per per me è importante io lo faccio tanto spesso di parlare di cose serie scherzandoci anche sopra e questa può essere una chiave eh sono tante chiavi per rileggere e leggere il centro storico cioè quest'area di città perché per il centro storico sembra sempre che parliamo di una parte in realtà c'è anche Genova da essere riletta in tanti modi però diciamo il centro storico ha a questo secondo me questo bisogno incessante di essere letto e riletto e partecipato con chiavi diverse con chiavi nuove sì a me piace questa questa visione mi piace tantissimo cioè cambiare un pochettino i punti di vista è proprio il nostro lavoro tra l'altro quando raccontiamo una storia eh il nostro gioco è di mettersi metterci nei panni del personaggio che facciamo muovere una cosa che ricorda sempre Francesco Di Polito che è stato un nostro docente un nostro amico carissimo altro disegnatore della Disney che abbiamo a Genova importantissimo eh dice quando io disegno un personaggio sullo sfondo devo pensare a che cosa fa quel personaggio lì devo ricordarmi che quel personaggio è vivo noi facciamo quel lavoro lì cioè pensiamo ai personaggi anche che stanno un po' dietro un po' sullo sfondo e questo è un pochino la mia filosofia di vita nel senso che per me è sempre molto importante parlare di chi non ha tanto la voce per per gridare forte Good Morning lo fa spesso anche e ti ringrazio del del credito ti faccio una domanda che mi 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 interessa molto è molto interessante il dato che tu guardi i personaggi sullo sfondo magari quelli che non sono i protagonisti della storia secondo te quanto sono cambiati io ho sempre la sensazione girando per il centro storico di vedere persone che quasi quasi guardando le vecchie fotografie si continuano ad assomigliare non c'è come una continuità antropologica in certe figure si si è vero è così è assoluto è pazzesco ehm eh sì c'è un'antropologia proprio eh del è una è un'antropologia fisica del del centro storico ci sono dei tratti eh delle figure dei personaggi che tornano e ritornano e ricorrono ehm non sono protagonisti sono dei eh passanti neanche non direi neanche dei comprimari eh però sono figure però lo fanno sì esatto sono delle comparse eh fisse dei camei che abbiamo in centro storico eh estremamente riconoscibili che eh sarebbe divertente da portare su delle delle tavole appunto no sarebbero veramente divertenti da da riprendere andare a ricercare da da ritrovare da ricostruire delle storie e raccontare delle backstores sì 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 sarebbe essere veramente fantastico senti al di là di questa bellissima iniziativa anche dello sguardo antropologico e affettuoso che hai tu nel centro storico ci sono anche cose che non vanno tu hai vissuto dentro la zona maddalena anche momenti di grande difficoltà rispetto diciamo a una situazione criminogena che rientrava in quell'ambiente ora com'è la situazione ma guarda Giovanni io sto in piedi cioè io sono sono ho una struttura molto solida per cui quando mi minacciano mi spaccano qualcosa o mi intimidiscono eh io ho un grosso gruppo di amici che mi sostiene ho una struttura che è estremamente legale quindi ho per esempio un'assicurazione all'attività che alcuni non hanno e quando gli sfondano le vetrine eh non non hanno non hanno paracaduti non c'è un salvagente che gli consenta di rimettersi in piedi io per fortuna rispetto la legge e la legge mi protegge lo Stato in questo in questo modo mi protegge mi tutela e questo è un grande vantaggio del del nostro paese eh il problema è eh che ogni volta devi eh puntare un po' i piedi per chiedere che i più deboli vengano difesi quelli che non ce la fanno vengano difesi e quando lo fai sembri un alieno perché perché la gente non guarda i più deboli noi abbiamo un problema enorme per esempio sulla prostituzione di cui nessuno parla nessuno parla del fatto che ci sono donne sfruttate donne oppresse eh eh sotto la 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 gestione controllata di organizzazioni mafiose e questa è una cosa che purtroppo dirla eh è controproducente il più delle volte però in tutto questo clima di ehm eh femminismo eh i diritti della donna eccetera io continuo a vedere che non si parla per niente della tutela di queste donne che sono proprio le ultime quelle che non hanno voce quelle di cui il femminismo eh la 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 nuova ondata di eh indignati ed indignate dovrebbe preoccuparsi per prime a mettersi di fronte a loro e a provare a parlargli dopodiché nessuno eh demonizza la prostituzione ci mancherebbe ancora il lavoro sessuale in alcuni paesi anche da noi è riconosciuto molte delle ragazze sono nostre amiche quindi figuriamoci cioè ci mancherebbe ancora che io parlassi male di loro sono sono persone insieme a noi nel nel quartiere che vivono le le nostre stesse passioni eh e i nostri stessi patimenti e e però sono trattate come proprio come le ultime lo scarto della città io dico questo eh ci deve essere una ragione per cui non avete prostituzione al molo e non non abbiamo prostituzione a pre ci deve essere una ragione no allora se uno accende quella lampadina lì forse si rende conto che questa cosa è gestita è voluta e ci sono delle persone che la vogliono e usciamo un fuori dalla narrazione che sono le donne che lo vogliono sono gli uomini che lo vogliono sono gli uomini che hanno quella necessità lì sono gli uomini che vogliono andare sempre nello stesso posto ad avere sempre lo stesso tipo di prodotto chiaro e tra l'altro mi viene ad aggiungere sotto quello che dicevi tu che una narrazione edulcorata falsamente romantica delle condizioni di queste persone no come cioè che alla fine c'è delle volte stone stride con quella che poi è la reale condizione di queste persone che sono sostanzialmente schiave sì lo dici guarda giovanni tocchi un tasto che per me è dolentissimo cioè detto meglio di così non so aggiungere altro cioè è terribile è terribile perché c'è sempre una narrazione un po romantica di quel fenomeno ma dentro quel fenomeno ci sono riciclaggio spaccio gente che si rovina la vita dietro quel fenomeno ci sono madri che hanno figli a cui non possono raccontare il lavoro che fanno perché sono 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 messe ai margini della società cioè ci sono storie noi c'è ovviamente con con i fumetti adesso è uscito l'anno scorso un bellissimo fumetto che si chiama puttendevi della di una casa editrice romana è la comic out che parla proprio di questo fenomeno ma non non in italia in italia di questa roba qua non si parla su su la revue desinè italia è uscito un un racconto legato diciamo alla prostituzione ma è sempre in un modo un po' come dici così romanzato no lontano invece sono storie vere sono storie di persone persone che sanguinano se ti faccio ancora domanda legata anche al fatto di essere produttore di biele ma mi ricorda ricorda una situazione di fatto quest'estate quando a un certo punto i negozi e pasticceri erano attaccate da sciami di di afino e noi insieme ci siamo fatti questa storia di andare a cercare di capire dove arrivava cos'era questo fenomeno ora il centro storico è bello anche per queste ragioni qua che ad un certo punto scopri ci sono degli alviari piazzati da abitanti ecco mi piaceva l'idea mi è piaciuta allora il fatto di scoprire dei mondi e comunque il fatto di scoprire che c'è un negozio che produce bene come il tuo che è proprio dentro il tessuto che non ti immagineresti mai del del nostro centro storico guarda tanti anni fa cercavo di entrare in una casa editrice qua di genova ho mandato il curriculum per provare a entrare in questa casa editrice e l'editore mi chiama per fare il colloquio di lavoro e io gli avevo mandato il mio curriculum come come avevano fatto tutti i candidati mi siedo e mi dice io non voglio assumerla ma detto voglio sapere come fa a fare tutte le cose che sta facendo così la coppio ho un problema giovanni io faccio tantissime cose e non riesco a stare fermo per cui quando tu mi hai chiamato quel quel giorno è stata più la curiosità di che mi ha mosso che la salvaguardia della pasticceria qua dietro poi di fatto era una cosa piccola per cui non loro non rischiavano niente però con l'associazione alpa abbiamo un gruppo di che si chiama chiappa sciami con cui ci coordiniamo per andare a recuperare gli sciami o fare interventi anche più rischiosi con i calabroni eccetera che è di nuovo una di quelle attività che uno fa un pochino più per gli altri che per se stesso perché a volte l'assistenza in queste situazioni la devi fare con spirito altruistico e basta perché non ripaga certamente insomma senti che poi l'abbiamo scoperto diciamo la ragione per cui le api andavano lì era che erano distanti diciamo da zone dove effettivamente c'erano i fiori quindi ci facevano la loro sosta diciamo di presa di zuccheri e poi era molto divertente anche l'idea che pure le api ci organizzano la parte di san matteo per tanti anni ha avuto quattro arnie all'interno del chiostro di san matteo questa è una cosa che sanno pochi di noi sanno gli anziani genovesi lo sanno perché ci andavano e alcuni di noi l'hanno visto da piccoli io da piccolo sono sono capitato lì dentro tenere le api in città è una cosa possibile se hai gli spazi in una città stretta e ammucchiata come genova non dico che sia impossibile però è un po' rischioso bisogna farlo con molta attenzione va bene dovremmo essere arrivati alla fine sono effettivamente le nove in punto allora io ringrazio andrea piccardo quindi invitiamo tutti alla mostra ripetiamolo andrea che ci sarà al museo risorgimentale grazie a voi intanto è un grande onore sempre essere qua con voi per me è un onore nostro potente ospitare è una meraviglia il risorgimento a fumetti inizia la inauguriamo oggi al museo del risorgimento mazziniano di genova in viallomellini 11 ci sarà un happening insieme ad andrea freccero invitiamo tutti sia io che elena putti a partecipare invitiamo tutti a comunicarlo il più possibile in giro perché il comune di genova su questo è molto carente fanno tanti sponsorizzazioni alle iniziative di scarso successo questa è un'iniziativa di grande successo che ci connette al mondo poi ti voglio fare domande anche sulle classifiche però però non avevamo più tempo diciamo che sono stati buoni un'altra puntata il Natale ci ha fatto sentire i più buoni quindi abbiamo invitato anche altri approcci e allora grazie ad andrea piccardo grazie a tutti a tutti che ci avete seguito questa mattina l'appuntamento è con il caffè con gmg a lunedì prossimo buona giornata grazie a tutti